E' stato il primo ad arrivare all'Assemblea Provinciale di Forza Italia. Giandiego Gatta, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio, non lo dice ufficialmente, ma lo fa capire. Il suo prossimo obiettivo è Roma, le elezioni politiche 2018. Gatta al Senato o al Parlamento? Non lo so, decidere il partito quale sarà il mio ruolo e se il partito mi chiamerà io risponderò presente come ho sempre fatto. E affoggia in nato l'asse con il sindaco Landella che gli prepara il terreno. Giandiego penso che oggi più di tutti, visto che in termini gerarchici dopo il sindaco del comune capoluogo viene il consigliere regionale più suffragato della Puglia. Quindi quando parlo di riconoscimento bisogna partire da queste persone che come a me abbiamo creduto in questo progetto. Ecco perché non faccio un discorso personale, ma faccio un discorso di riconoscimento e di merito. A calmare l'entusiasmo ci pensa il coordinatore regionale Gino Vitali. Sulle candidature ha detto, decide Berlusconi. L'ultima parola in questo partito aspetta il presidente Berlusconi. Grazie. Grazie. Grazie.